Privilegiare nelle gare d'appalto le aziende che nella loro offerta economica daranno un peso particolare al capitolo sicurezza. È l'impegno assunto da tutti e sette i comuni pratesi e dalla provincia di Prato che hanno sottoscritto un'intesa specifica frutto di un lungo percorso che ha visto amministrazioni comunali, INAI, liberi professionisti e ASL impegnati nel definire buone pratiche in materia di appalti pubblici, di servizi sanitari e sociali a garanzia dei diritti contrattuali dei lavoratori. In sostanza nelle gare d'appalto viene abbandonato lo strumento del massimo ribasso per adottare l'offerta economicamente più vantaggiosa che nella parte tecnica contiene gli elementi della strategia premiante per le aziende che investono su salute e sicurezza. L'accordo valido tre anni intende anche favorire lo scambio di esperienze e competenze in materia di sicurezza nelle gare d'appalto tra i soggetti del settore pubblico e privato e prevede un costante monitoraggio dell'applicazione del protocollo attraverso un gruppo di lavoro che con l'eventuale contributo dell'osservatorio sui contratti pubblici della regione potrà valutare l'esperienza e proporre integrazioni. È un risultato molto bello questo e diciamo che con la firma di questo protocollo siamo tutti un po' più europei e anche un po' più moderni perché finalmente dopo tanti anni di chiacchiere, se ne parla da tanti anni, di come fare a superare il massimo ribasso, finalmente superiamo il massimo ribasso. Era un'idea alla quale lavoravamo da tempo, cioè quella di passare da un rapporto di semplice vigilanza tra dipartimento, servizi di prevenzione e cantieri a un rapporto invece più spostato sulla fase preliminare dell'apertura del cantiere e quindi sulla fase dell'appalto.